c'è una ragazza che si chiama Anastasia e ci segue dalla Calabria che ha scritto una poesia davvero molto bella che tra poco vi leggerò non è dedicata a nessuno in particolare però è dedicata all'amore a quell'amore che molte persone cercano un amore davvero bello e vabbè tra poco ve la leggo intanto continuate a scrivere sms oggi 335 1316 c'è Polanca Beckelsum